ciao ragazzi e bentornati su questo nuovo video non fare oggi ragazzi siamo su clash royale il ritorno vi volevo dire solo una cosa che lascio il link descrizione di canali che sarebbe uno di martina e che mi ha appena uscito e poi e poi niente buona su chi ami che lo faccio anche lui e che descrizione appena uscito meno quali iscrivetevi fatto già tre video 42 iscritti da quando iscrivetevi poi uscirà il video di clash of clans perché ha iniziato già un giorno di battaglia come vedete e niente usciranno i doli e facciamo una battaglia questo è un video solo corto per parlarvi iscrivete di iscrivervi al canale e niente e grazie per la somma quasi 200 iscritti siamo non mi ricordo però grazie per la somma qui non c'è arriva la canchia nooo perché merda ok ragazzi dai su ragazzi facciamo il culo in questo wii animo in arena 7 di nuovo questo deck ve lo consiglio poi vi faccio vedere anche il deck di diamante questo c'è il giulazzo per i amini non so se quando la farò forse con lui non lo so no questo sa giocare un po' è già ho messo 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 no 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 ragazzi forse uscirà un nuovo video sul canale di via amante di via amante che si diventa 17 al demo e niente questo video era tutto scusa per 3 minuti e niente ciao raga uscirà un nuovo video uscirà un video anche di clash di clash of clans e la war quindi ciao mi raccomando di iscrivervi al canale di via amante di via amante di via amante di via amante ciao